Speriamo che per fine mese diventino già lì anche loro. Poi è anche vero che noi abbiamo la seconda casa, quindi è il luogo di PCM, la seconda casa è sempre la di noi. Lo sai. Allora, è vero che il nostro amico poliziato ha detto che loro non chiamano nessuno, perché è il caso di un tagliamento più. Ci facciamo camminare oggi, ci facciamo camminare a basso sostenuto oggi. La mia è in questo giardino con alberi secolari di 55.000 metri quadrati e circondati sia a fuori davanti che sul retro. Grazie. Grazie.